C'è il calciatore Paolo Maldini, il più anziano capitano a guidare una squadra in Champions League, ma c'è anche il maggior numero di streaming per un singolo evento, il matrimonio reale tra il principe William e Catherine Middleton. E' un curioso record italiano ottenuto da Roberto Esposito, che con un solo post su Facebook ha ottenuto il maggior numero di commenti, ben 389.141. Sono alcuni dei primati del nuovo Guinness World Record 2012 in uscita da Mondadori, ma il record italiano più spettacolare è considerato il più grande matrimonio acquatico mai celebrato, con ben 261 invitati sott'acqua all'elba. Da notare che il celebrante era il sindaco Ruggero Barbetti, a sua volta appassionato di diving, missione compiuta dunque per capoliveri e per il sindaco, che con i loro amici sub hanno trovato un modo semplice e divertente per guadagnare un momento di celebrità mondiale. Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1980 dalla Mondadori, il libro del Guinness World Record, anno dopo anno si è imposto all'attenzione del pubblico, riscuotendo un grande successo con oltre 100.000 copie vendute in ogni singola edizione.